Stiamo nell'evento dell'Istituto Italiano della Cultura nel marco della Semana della Cosina Italiana. È un dia particolare perché riceviamo un grande chef italiano Andrea Berton. Per questo importante evento ho portato i miei piatti rappresentativi. Farò assaggiare la parmigiana di melanzane, una ricetta classica italiana, però rappresentata in una forma più contemporanea e più moderna, quindi concentra i sapori all'interno di una sfera. C'è la presentazione di una cosina nuova, di una cosina innovativa che, amando in cuenta la grande tradizione italiana, la rinnova, la formalizza di altra maniera e la propone a un pubblico contemporaneo. Grazie a tutti.